salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video oggi valutiamo un po tutte le carte nuove di marvel snap quelle di serie 4 e di serie 5 che sono state inserite con la patch di un paio di giorni fa tutte queste carte si potranno trovare nelle casse dopo il 500 però con una percentuale diciamo molto più bassa rispetto a quelle di serie 3 infatti le serie 4 avranno il 2,5 per cento le serie 5 lo 0,25 per cento arriveranno anche nello shop dei token quindi le potrete trovare a giro potrebbero uscirvi però costeranno decisamente di più cioè 3000 token per quelli serie 4 e 6000 token per quelle di serie 5 in questo video facciamo una panoramica vi do la mia opinione molto velocemente su tutte le carte e vi dirò anche quali sono secondo me le 3 4 migliori ma con un grandissimo disclaimer ovvero a mio avviso mio personalissimo avviso secondo me prima solo di pensare di comprare una di queste carte anche quelle che vi sembrano le più forti coi token quindi spendendo 3000 o 6000 token io vi consiglierei comunque di avere già una collezione bella grande quindi di essere almeno sopra il 2000 2500 di livello collezione con tante carte serie 3 perché la differenza di prezzo di token è enorme e conviene infinitamente di più avere magari sei carte serie 3 prese nello shop di quelle molto forti piuttosto che una sola di serie 5 poi ovviamente se le trovate a culo gg per voi però non ammazzatevi cercando di spendere tanto a livello di token per queste carte perché per quanto alcune siano effettivamente molto forti non ne vale la pena è molto meglio avere più consistenza in tante carte serie 3 detto ciò iniziamo vediamo un po come sono queste carte perché alcune anche fanno abbastanza cagare nonostante siano rare e costose per esempio tra quelle di serie 4 luke cage secondo me è una carta abbastanza scadente cioè veramente un uso estremamente limitato e un ongoing dove praticamente dice che tutte le tue carte non potranno avere riduzioni di potere quindi una sorta di protezione per le carte in gioco rispetto alla riduzione di potere e lui è un 2 1 ora a parte un singolo mazzo che si può fare un po meme un po troll con hazmat e wong per cercare di depotenziare tutta la borda di tantissimo non c'è molto altro utilizzo perché non c'è veramente motivo di usarlo quindi se volete proprio fare quel mazzo meme ok però per il resto luke cage è abbastanza scarsa altre carte scarse della serie 4 a mio avviso tutte quelle dello shield in generale tutte le carte dello shield fanno abbastanza cagare a parte forse queen jet però sia maria hill che agente corso che è il carrier secondo me non hanno molto senso di esistere in generale perché alla fine snap un gioco dove le sinergie sono fondamentali avete solo 12 carte dovete cercare di creare belle combo belle sinergie oppure un mazzo control con delle counter ma tutte queste carte danno on reveal altre carte assolutamente randomicamente quindi alla fine vi ritroveste un deck pieno di carte a caso non lo so magari per divertirsi ok ma secondo me sono tutte e tre carte abbastanza scadenti in particolare è il carrier che dovrebbe essere dentro un mazzo discard ma poi in realtà vi dà altre carte a caso quindi vi rompe fondamentalmente le combo del mazzo discard quindi non hanno molto senso tutte e tre a mio avviso differente la storia invece per shulk che probabilmente è una delle carte più forti di quelle che sono uscite perché shulk è un 6 10 che costa un mana in meno per ogni energia non spesa nel turno precedente questo vuol dire che è facilmente inseribile un deck con sunspot infinauta e anche per esempio munger per doppiarla in questo modo potete avere un'opzione o un infinauta turno 6 da 20 oppure schippando il turno 5 e avendo sdoppiato magari shulk 2 1 10 al turno 6 con 4 mana che vi avanzano oppure come il deck che molti stanno usando in questo momento con wave e death perché il funzionamento di wave è che riduce il massimale della carta a 4 che si può giocare quindi questo cosa vuol dire che se avete un deck che distrugge carte in più avete wave death e shulk al turno 6 potete giocare sia shulk che death e magari se l'avete anche doppiata con moon girl magari anche due shulk o cose di così comunque in generale ci sono delle combo abbastanza importanti che si possono fare con shulk quindi secondo me è sicuramente una delle carte più forti a disposizione titania titania è una carta buona senza dubbio un 1 5 che però quando viene giocata se l'altro giocatore gioca una carta su quel campo cambia di lato ora è ovvio che titania viene giocata all'ultimo turno quando magari non si ha priorità quindi si gioca effettivamente per ultimi e si è sicuro di poter giocare un 1 5 che comunque è abbastanza abbastanza consistente direi molto consistenza a livello di mana spesi per power oppure si gioca ovviamente in una location dove l'avversario ha già finito gli slot oppure si giocano un deck che riempie i slot dell'avversario e poi si gioca anche che titania per avere molto potere per poco mana quindi secondo me è una carta più che buona. Absorbbing Man secondo me è un'altra carta buona certo entra in un certo tipo di mazzi abbastanza specifici perché lui on reveal copia l'effetto on reveal della carta precedentemente giocata quindi si possono fare combo interessanti con taskmaster e black panther per fare triple carte molto molto grandi in generale può fare nascere delle combo interessanti con le carte on reveal quindi è da attenzionare siamo ancora all'inizio quindi non ho visto tantissimi deck però ha del potenziale sicuramente Absorbbing Man. Baku invece diciamo che può entrare in alcuni deck però non mi sembra tutta questa cosa incredibile praticamente quando alla fine della partita non è stato pescato quindi è rimasto nel mazzo viene tirato fuori dal mazzo viene giocato in una locazione randomica. Ci possono essere gli archetipi di deck per il quale effettivamente è più probabile che lui rimanga dentro il deck piuttosto che no e che effettivamente vi dia questi due punti extra a caso nella board però non lo so mi sembra molto situazionale e anche molto randomica la cosa tutto questo per avere due punti in più a caso nella board non lo so a occhio e croce non mi sembra così incredibilmente forte però potrebbe avere una sua posizionamento in qualche deck infine ultime due carte della serie 4 Attuma e Orca entrambe fanno cose simili infatti è una 4-10 Attuma che ha un enorme valore a livello di mana speso per power però se alla fine del turno c'è un'altra carta nel suo spazio viene distrutta similmente anche Orca vuole stare da sola perché è un po' in letto i motivi di tutte queste carte diciamo marine un po' come Namor no anche Namor vuole stare da solo nella sua location Orca invece è un 6-9 un ongoing che prende più 5 di potere se è l'unica carta in quello spazio quindi diventerebbe un 9-14 ora secondo me tra le due Attuma è meglio è più forte nonché Orca si può giocare secondo me come unica carta da sola magari anche con Spectrum che gli dà un altro più 2 ci può stare farebbe le 10 sorta di destroyer però senza gli effetti negativi di destroyer però deve stare necessariamente da sola perché non si può che ne so cancellare l'effetto per avere comunque il suo valore perché c'è bisogno che quel ongoing triggeri quel più 5 deve rimanere in gioco quindi effettivamente deve rimanere da sola invece Attuma secondo me è più forte perché semplicemente basta che noi non la facciamo distruggere e quindi in realtà basta giocarla dentro armor se la giochiamo dentro armor semplicemente abbiamo un 4-10 che poi non si distruggerà oppure con 0, 0 è una carta 1-3 che è la carta successiva che viene giocata viene giocata senza alcuna abilità quindi come se non avesse nessuna abilità quindi in questo modo cancelliamo qualsiasi effetto negativo che può triggerare e rimanebbe un 4-10 oppure si può giocare anche per esempio con il Professor X una combo con quale giocare Attuma e poi Professor X avreste una location che in due turni diventa 13 lockata insomma Attuma è interessante secondo me ha possibilità di essere giocata in vari deck ora passiamo alle carte di serie 5, le più rare in assoluto difficilissime da trovare sbustando e molto molto costose se vi escono nei token shop vi devo dire che un paio di queste mi sono uscite nel token shop ma non le ho prese proprio per le cose che vi ho detto all'inizio del video anche se avrei potuto perché 6.000 token fino a ieri le avevo oggi non ce li ho perché ho comprato Green Goblin e io vi dirò voi vi aspettate che le serie 5 siano sgravatissime, rarissime, sgravatissime in realtà secondo me ce n'è solo una carta molto forte tra queste cominciamo comunque Galactus Galactus è una carta secondo me molto divertente forte con un deck molto specifico che però deve girare quindi è secondo me proprio uno sfizio è un po' come Mr. Negative, se fate un deck ad hoc è estremamente divertente però non è molto consistente, deve tutto girarvi abbastanza bene e Galactus è così praticamente Galactus on reveal distrugge tutto il mondo e rimane solo la location in cui viene giocato Galactus però se in quella location non c'era nulla dalla parte vostra e c'è anche un'animazione molto figa ovviamente ci vuole un deck super specifico dove dobbiamo avere magari un turno in più dobbiamo avere più mana dobbiamo avere carte enormi da poter giocare in quel turno in più insomma dobbiamo avere Wave Death, Electro, Magic e tante altre carte Psylocke per fare quel deck per Galactus quindi è molto specifico e appunto secondo me è un po' uno sfizio comunque se avete tutte queste carte e quindi riuscite a fare quel deck di Galactus è decisamente divertente e sicuramente in questo periodo nessuno se lo aspetta Valkyr, Valkyr secondo me è una carta abbastanza forte perché è sicuramente fortissima dentro un Cerebro deck 3 dove cambiando tutte le carte in quella location a 3 può ancora più amplificare diciamo la potenza di un Cerebro 3 inoltre può essere secondo me usata anche come carta Control se abbiamo Sera e quindi abbiamo diciamo uno sconto di mana e magari anche Magic quindi andiamo per le lunghe la partita può essere un colpo di scena all'ultimo turno praticamente far diventare tutta quella location a 3 magari su una location dove l'avversario ha investito tantissimi punti in carte molto forti, molto grandi quindi secondo me è ambivalente Control e anche chiaramente in Cerebro 3 ora Super Skull Super Skull tutti hanno detto che era sbroccata tutti impazziti perché comunque il suo effetto è senza senso se ci pensate il suo ongoing effetto è copiare tutti gli effetti ongoing che sono presenti in gioco in quel momento su di sé dell'avversario quindi se l'avversario gioca un deck ongoing praticamente ha perso penso matematicamente perché lui si prende tanti di quegli effetti buff eccetera eccetera che non ha alcun senso il problema di Super Skull è che è forte solo in questo caso se ci pensate perché se l'avversario con cui giocate non gioca ongoing o ne gioca uno non serve a un cazzo questa carta perché è un 4-2 è molto debole a livello di power quindi se effettivamente non siete contro un ongoing deck è una carta morta nel deck quindi è iper mega situazionale quindi è forte? boh, sì quando è forte è forte e quando non è forte fa schifo diciamo così adesso Shuri ecco Shuri secondo me è un'altra delle carte più forti che c'è in questa selezione quindi andrebbe nella mia top 3 eventualmente perché Shuri chiaramente è nel tema di Wakanda Forever tra scudi e potenziamenti incredibili soprattutto proprio per Black Panther e quindi cosa fa un 4-2 che on reveal raddoppia il potere della prossima carta giocata sicuramente con Shuri si possono fare enormi portate non solo con Black Panther chiaramente che può diventare gigantesco ma banalmente anche con altre carte con alto power che può essere raddoppiato anche con un dinosauro per dire o non c'è bisogno di arrivare in finauto insomma ci sono varie carte che possono beneficiare del raddoppio e poi magari dello sdoppio con Zola oppure il copiaggio di quella mega carta con Taskmaster insomma si possono fare un sacco di cose Shuri è molto molto forte credo che sia una delle più forti di tutta la selezione siamo arrivati quasi alla fine ragazzi adesso abbiamo Bust ecco Bust secondo me ha la sua bella forza però penso in particolare sempre per il Cerebro un Cerebro appunto 3 dove per esempio tutte quelle carte a 0 di potere come Cerebro stesso o Mystic se le abbiamo in mano giochiamo a Bust diventano 3 anche loro di potere e quindi abbiamo un bel vantaggio poi quando andiamo a giocare inoltre può essere giocato in altri deck anche con Mr. Negative probabilmente perché abbiamo molte carte che avrebbero 0 di potere ma con questa diventerebbero 3 di potere banalmente un Iron Man oppure appunto con non necessariamente Mr. Negative ma con un deck dove mettiamo varie carte che di solito hanno poco potere perché hanno grandi effetti e se le abbiamo in mano giochiamo a Bust arrivano ad avere anche 3 di potere quindi è un considerevole aumento in particolare proprio con Iron Man o Iron Heart quindi secondo me entra bene in vari deck Bust non è da saturavoltare per niente finiamo con Thanos ovviamente Thanos carta con un design allucinante se abbiamo Thanos nel mazzo all'inizio della partita vengono mischiate 6 gemme dell'infinito nel deck queste 6 gemme dell'infinito sono queste qua ecco le 6 gemme dell'infinito hanno tutte un costo in mano di 1 e fanno tante cose diverse più o meno tutte pescano carte ovviamente perché noi stiamo mischiando in un mazzo da 12 altre 6 carte che non è una cosa buona in realtà perché più carte abbiamo più è difficile pescare quelle che vogliamo però effettivamente tutte le gemme fanno pescare altre carte oltre ad altri effetti che fanno ora senza fare mille pippe mentali a spiegare a ognuna cosa fa che cosa possono scombare eccetera eccetera perché sennò ci vorrebbe un video a parte solo per Thanos diciamo che ancora presto per capire se Thanos è un deck viabile, forte o solo un po' meme perché far funzionare tutte queste gemme che dobbiamo pescare per poi avere il buff su Thanos o comunque in generale dobbiamo pescarle poi distruggerle perché comunque ci occupa anche spazio sulla board non è una cosa semplice io onestamente non ho approfondito tanto su Thanos quindi non saprei dirvi quanto è forte e anche semplicemente perché secondo me pochissimi al mondo a due giorni dall'uscita dalla patch ci stanno effettivamente giocando lo stanno testando quindi è estremamente presto per dirvi Thanos è buono Thanos non è buono quindi rimandiamo il giudizio al futuro la cosa sicura è che non è semplice fare un mazzo con Thanos perché va un po' a rompere diciamo le classiche regole di Marvel Snap nel senso che si tende ad avere un mazzo più limitato possibile pensate quanti usano America Chavez per pescare meno carte per averne 11 e poi Chavez arriverà alla sesta quindi essere più consistenti qua è esattamente il contrario quindi insomma non saprei dirvi su Thanos se è buono oppure no bisogna vedere un po' ci vuole del tempo per capire il meta come va e se escono dei deck che poi effettivamente risulta essere consistenti e forti perché ricordatevi una cosa è un deck che può essere divertente vince magari una volta su tre vi spaccate le risate ok però se volete un deck competitivo consistente è un'altra storia detto questo vi dico secondo me alla fine della fiera quali sono le tre carte più forti secondo me secondo me le carte più forti ci sono Shuri Shulk e a sorpresa io metto a pari merito Attuma perché secondo me è estremamente flessibile e vi dà un sacco di power diciamo per poco e Valkyr perché secondo me ha un enorme potenziale non solo nel cerebro ma anche come carta control può fare cose molto molto interessanti e può essere usata in più mazzi queste sono un po' le mie opinioni su queste 16 nuove carte fatemi sapere un po' cosa ne pensate anche voi di queste 16 carte magari qualcuno le avrà anche già comprate o addirittura trovate a super culo fatemi rosicare perché se le avete trovate con lo 0,25% o 2,5% appunto insomma molti rosicheranno a saperlo quindi fatemelo sapere sotto nei commenti dettoci a noi ci salutiamo ragazzi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale sul gaming e anche su Marvel Snap come sempre rimanete sintonizzate e statemi bene alla prossima ciao ciao